Ciao a tutti, sono Veronica Ballerini, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni dell'Università degli Studi di Firenze. Il lavoro che sto per presentare è in collaborazione con Simona Toti e Marco Dizio dell'ISTAT e Brunero Liseo, professore ordinario presso il Dipartimento Memo-TEF dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Lo scopo del nostro lavoro è quello di correggere gli errori di copertura dei dati amministrativi sui conteggi di popolazione, adottando un approccio completamente bayesiano. La metodologia si applica a casi come quello del censimento permanente della popolazione italiana che affida il conteggio di popolazione al registro di base degli individui, una fonte amministrativa molto dettagliata ma affetta da problemi di sovracopertura e sottocopertura. Per valutare i tali errori, l'ISTAT conduce due indagini da cui nascono due master samples utilizzati per la correzione di tali errori. Il nostro contributo consiste nello stimare le probabilità degli errori e lo facciamo per regione e a livello di profilo individuale. Assumiamo due modelli logistici, uno per la sottocopertura e l'altro per la sovracopertura, a effetti misti. Dunque, secondo questa specificazione, le probabilità dipenderanno da un insieme di effetti cosiddetti fissi e da effetti random. Tra gli effetti fissi troviamo le covariate che determinano i profili individuali e dunque l'età divisa in cinque classi, il genere, la cittadinanza e in più vi è una variabile a livello comunale che distingue le aree rurali dalle cosiddette aree urbane. Tra gli effetti random, invece, consideriamo le province. Dunque, adottando un approccio bayesiano, riusciamo ad ottenere le distribuzioni a posteriori dei parametri dei nostri modelli. Ora, definiamo uno stimatore della numerosità di popolazione, n cappello, come il conteggio del registro di base degli individui, moltiplicato per un fattore di correzione. E' facile così ottenere una distribuzione anche per n cappello e sintetizzare l'informazione con statistiche quali la media e la mediana. A questo punto, però, risulta facile anche quantificare l'incertezza legata a tale stime. E' infatti uno dei vantaggi dell'approccio bayesiano quello di produrre in maniera del tutto naturale intervalli di credibilità. E questo può essere fatto a livello di regione, di provincia, di comune e addirittura di profilo. Per valutare la bontà della procedura abbiamo fatto degli studi di simulazione e questo ci ha permesso di confrontare le stime della numerosità di popolazione con i valori che abbiamo generato per simulare i dati. E' bene sottolineare che il modello utilizzato per simulare i dati non è lo stesso che abbiamo implementato per ottenere le stime. Nonostante ciò, la nostra procedura si conferma molto performante e volendo riassumere con una sola statistica i risultati, possiamo dire che la distanza quadratica media tra la distribuzione a posteriori e i valori generati per simulare i dati è molto concentrata sullo zero. E questo migliora con l'aumentare della dimensione dei comuni. Per l'implementazione del modello abbiamo deciso di utilizzare il pacchetto R-Stanarm di Goodrich e altri del 2020 per la sua facile sintassi e la grande flessibilità. Grazie per aver prestato attenzione a questo video e buona conferenza!